Un saluto a tutti dal centro sportivo di Milanello, si è appena conclusa la conferenza stampa del tecnico rossonero Stefano Pioli, la squadra però svolgerà l'allenamento tra qualche minuto, quindi avremo nel corso della giornata e del pomeriggio ulteriori aggiornamenti su quello che sarà l'ultimo allenamento del Mian qui a Milanello prima della partenza per Cagliari, la squadra partirà alle 18 per la Sardegna, poi in serata arriverà a Cagliari e domani farà l'ultima sgambatura in hotel prima poi di andare in serata allo stadio. Le parole di Pioli, allora la cosa importante da dire innanzitutto riguarda le condizioni di alcuni giocatori perché è stata una settimana particolare in cui il Mian si è allenato per tutta la settimana da sabato a sabato, quindi dalla partita con l'Empoli alla partita con il Cagliari, non ci sono state le coppe quindi evidentemente è stata una settimana tipo per svolgere al meglio gli allenamenti però alcuni giocatori hanno avuto la febbre. Allora la prima indicazione che ha detto Pioli in conferenza stampa è che Daniel Maldini non ci sarà per la partita contro il Cagliari a causa di uno stato febbrile, sono tre giorni che Daniel ha la febbre quindi non ci sarà. Tonali ha avuto la febbre per due giorni quindi l'altro ieri e ieri, oggi dovrebbe cominciare a riprendere gli allenamenti ma è in dubbio per Cagliari. Vediamo un attimo se riuscirà a farcela Sandro Tonali mentre Giroud sta bene, il giocatore francese sta bene, evidentemente ha superato lo stato febbrile e sarà molto probabilmente il titolare contro il Cagliari ed è in ballottaggio con Ibrahimovic. Sul ballottaggio tra il francese e lo svedese potremmo essere un po' più chiari nel pomeriggio dopo l'allenamento che si sta svolgendo qui al centro sportivo di Milanello. Al momento diamo favorito Giroud perché evidentemente ha tirato avanti la carretta in questo periodo mentre Ibrahimovic ha aumentato il minutaggio come ha detto mister Pioli in conferenza sta molto meglio e sta aumentando il minutaggio ma probabilmente serve ancora un pochino di tempo. Però per decidere chi partirà titolare tra Giroud e Ibra attendiamo l'allenamento che si sta svolgendo ora e quindi ne sapremo meglio nel pomeriggio. Per quanto riguarda Diaz, ecco la novità che ha detto Stefano Pioli in conferenza. Il giocatore ha avuto un trauma contusivo ieri in allenamento, una botta. Vediamo se questa botta, se questo trauma contusivo può essere talmente influente da portarlo a non giocare contro il Cagliari. Se non dovesse giocare Diaz che sì potrebbe essere arretrato a centrocampo perché ultimamente sta giocando quasi sempre da trequartista in coppia con Benasser e quindi spazio in avanti probabilmente per Radekrunic proprio perché Diaz non è al meglio. Ovviamente tutto questo perché Tonali anche lui ha avuto la febbre, altrimenti sappiamo benissimo che i titolari del Milan in questo momento sono Benasser e Tonali a centrocampo con Chessy che viene schierato sulla trequarti. Ci sono un po' di cambi in atto a causa di questi problemi che ha avuto il Milan in questi giorni, soprattutto per Diaz e per Tonali che sono i due giocatori un po' più sotto la lente di ingrandimento in questo momento a causa di problemi fisici. Per il resto la formazione presenta un altro unico dubbio, quello tra Calulu e Romagnoli in difesa. Probabilmente per come sta giocando Calulu sarebbe difficile in questo momento toglierlo dal campo, un giocatore di grande affidabilità, un giocatore solido, concreto che in coppia con Tomori sta facendo davvero delle ottime cose. Però Romagnoli è sempre il capitano, quindi evidentemente il Milan sta anche cercando di capire se deve fare questa sostituzione a Cagliari e magari per Romagnoli sarebbe un po' più semplice marcare un giocatore come Pavoletti che sui colpi di testa è molto forte oppure invece dare ancora spazio a Calulu accanto a Tomori. Esterno destro di difesa Calabria, esterno sinistro di difesa Teo Hernandez anche perché Teo Hernandez torna dopo la squalifica, è un giocatore fondamentale per questo Milan evidentemente il Milan non può farne assolutamente a meno soprattutto per le scorribande sulla corsia sinistra. Dove ci sarà Leao che anche ieri ha detto delle belle parole su Paolo Maldini e il Milan per quello che sappiamo il rinnovo di Leao è sempre più vicino. Prima di lasciarvi con delle parole di Adriano Gagliani che abbiamo raccolto ieri all'evento della presentazione del libro di Peppe Di Stefano, il collega di Sky e quindi un Gagliani che parla di Leao, di Tonali e della corsa Scudetto del Milan, un ultimo aggiornamento per quel che riguarda le trattative Sanchez e Botman. Anche l'equipe che è un famoso quotidiano francese conferma quello che ormai da tempo stiamo dicendo cioè che Botman sarà un giocatore del Milan, ovviamente manca ancora l'accordo definitivo tra Lille e Milan però si va verso questa direzione e anche Sanchez. Per lui sappiamo che il Milan ci sta lavorando da tempo, non c'è ancora l'accordo sulle cifre per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore portoghese, si sta lavorando col suo procuratore che è Jorge Mendes ma è molto possibile, molto probabile che il Milan alla fine possa trovare un accordo con il giocatore e quindi portare da Lille due importantissime pedine come Botman e Sanchez che andranno sicuramente a rinforzare la rosa-rosso-nera per la prossima stagione. Quindi arrivano ulteriori conferme dalla Francia, dall'equipe su quello che stiamo dicendo ormai da tempo. Vediamo nelle prossime settimane se poi arriverà anche proprio la conferma anche dal club rossonero della definitiva chiusura di queste due operazioni che saranno ripeto importantissime per rinforzare la rosa del Milan in vista della prossima stagione perché l'obiettivo del Milan non è solamente quello di lottare per lo scudetto e in Italia ma tornare ad essere competitivo anche in Europa. Ora però testa al Cagliari perché è una gara difficile, l'ambiente non sarà semplice, l'ha detto anche Pioli in conferenza, l'ambiente di Cagliari è sempre un ambiente particolare e quindi evidentemente serve il massimo per riuscire a ottenere i tre punti in trasferta in Sardegna. Ci vediamo nel pomeriggio con le ultime ma ora vi lascio con le parole di Adriano Galliani che abbiamo raccolto ieri all'hotel Sheraton di San Siro a questo evento di presentazione del libro dedicato proprio al centro sportivo di Milanello. Non capirò nulla di calcio ma Tonali secondo me assomiglia adesso di Cunneresia, più agattuso che a Pirlo. è un giocatore diverso, un giocatore buonissimo ma io non lo vedo un grande mediano, un grande interditore, io rubo un sacco di palloni come faceva Rino Gattuso, giocatore top ma secondo me è perfetto nel centrocampo a due e non nel centrocampo a tre, perché vedete il mio sogno sarebbe stato quello di fare l'allenatore, non il dirigente. Non sono riuscito a fare l'allenatore, mi è toccato fare il dirigente, ma ridendo con gli allenatori dicevo mi piace spostare i centrocampisti. Ecco Tonali secondo me è un centrocampista a due e non a tre, attenzione che giocare a due o a tre al centrocampo è diverso. Cosa pensa di Leao? Leao penso che se acquisisce un po' più di determinazione europea può diventare uno dei più grandi giocatori del mondo, potenzialmente a tutto per diventare un top mondo. Poi per diventare un top mondo bisogna avere tante cose che io auguro Leao, che è giovanissimo, di poter avere nel futuro. E vince con la maglia rosso nero. Ma per diventare grandissimissimo un top mondo devi avere tanta tecnica, tante cose. Lui è molto giovane e speriamo che riesca ad arrivarci. Io incrocio le dita perché sono rimasto ovviamente rosso nero nel profondo del cuore, quindi tifo Milan perdutamente, Milan sta facendo molto bene, non diciamo che io sono molto scaramantico, ma mi sembra che stia facendo un bel lavoro e che non dico niente.